Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, nuvoloso con qualche schiarita. In montagna, coperto con deboli nevicate. Nel pomeriggio, in pianura, coperto con possibili deboli piogge. In montagna, coperto con deboli nevicate.